Zero morti sul lavoro, giusta riforma fiscale con una più equa distribuzione dell'IRPEF a carico oggi prevalentemente di lavoratori e pensionati, un nuovo modello sociale di fare impresa. Queste le rivendicazioni di CDL e Will che oggi a livello nazionale ma anche locale hanno indetto uno sciopro di quattro ore spiegando nel dettaglio le motivazioni in una follata con frezza stampa presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara. In Abruzzo abbiamo avuto 36 morti sul lavoro nel 2023 della regione con un numero maggiore di vittime rispetto agli occupati ma ovviamente il problema è un problema nazionale e come diceva giustamente lei bisogna cambiare delle norme che creano insicurezza, la precarietà sul lavoro, gli appalti a cascata e quindi pensiamo che in molti cantieri lavorano decine di ditte, ecco in queste condizioni è impossibile garantire la sicurezza per non parlare poi degli ispettori del lavoro che sono assolutamente carenti pensiamo che un'impresa viene ispezionata mediamente una volta ogni 14 anni gli ispettori del lavoro tra l'altro ci comunicano e spesso devono mettere loro la benzina, la loro auto privata per spostarsi perché non ci sono risorse, ecco quindi questa deve diventare un'emergenza nazionale e oggi non lo è. Per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro bisogna riattivare il tavolo al Ministero del Lavoro il decreto legge così come è stato fatto all'indomani del disastro a Firenze non va bene noi chiediamo che si riveda la legge sui subappalti, uno dei temi fondamentali per cui accadono pure gli incidenti è una deregolamentazione di questa partita sui subappalti chiediamo una vera e propria patente appunti rispetto al tema della sicurezza chiediamo l'individuazione di una legge che riconosca l'omicidio sul lavoro così come accade per l'omicidio stradale credo che i fatti di Suviana ultimi ci dicono che siamo ormai alla barbarie questo va recuperato fortemente il secondo tema riguarda la riforma fiscale anche qui noi pensiamo che vada fatto molto che non è stato fatto il 90% dell'IRPEF viene pagato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati bisogna recuperare quindi dare più forza ai salari per poter avere una crescita maggiore e poi il tema dei contratti collettivi in azione lavoro ci sono milioni di lavoratori che non hanno ancora i contratti collettivi in azione lavoro rinnovati tra cui i lavoratori pubblici noi chiediamo che questo si faccia nel più breve tempo possibile